Bene, mi pare che abbiano votato tutti. No, Buttiglione sta andando a votare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 382 favorevoli, nessuno contrario. La Camera approva. Passiamo al seguito della discussione del disegno di legge ratifica già approvato dal Senato numero 3241. Ratifica ed esecuzione del memorandum di intesa dal Governo della Repubblica Italiana, il Consiglio dei Ministri e la Bosnia e la Zegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 32 gennaio 2013. Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. Dichiaro aperta la votazione. Greco Carloni Colletti Chi altro non riesce a votare? Lombardi Turco Grassi Velocemente per favore Martino Chi altro? D'Ambrosio Venitelli 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 Grazie a tutti.